Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica altro video all si sono accumulate alcune cosine e l'ho detto, facciamole vedere allora, sono stata dai cinesi e ho preso questo che è un nastro biadesivo quello un pochino alto di spessore ed è già pretagliato in quadratini per quando faccio le mie shaker fammelo provare, poi ho preso anche i rotolini quelli che ho già, i classici a un euro ma non ve li faccio, sono due bianchi piccolini e niente, questo qua 1,49 euro se non sbaglio 1,59 euro adesso, non mi ricordo benissimo alla perfezione poi sempre in quel negozio ho preso questi due a 99 centesimi l'uno sono barattolini che vengono adesso nei periodi natalizi così ma vanno benissimo anche per fare le shaker vengono sempre buoni questi glitter qua c'è la versione argentata tutta glitterosa e anche questa qua un po' tutta tipo madre perlata bianca, questi qua vanno benissimo c'era anche il d'oro però ho detto no prendiamo questi due che sono un pochino più sul neutro poi, sempre in questo negozio che ho già usato qualcosa, si vede per fare qualcosa a niente, vi faccio vedere in ritardo però vi faccio vedere sono sei pezzi di feltro e questi sono a 2 euro sempre in questo negozio di cinesi hanno la bellezza di essere adesivi e adesso vi faccio vedere invece perché no dopo adesso partiamo con quelli di Auchan che anche lì ho preso dieci pezzi di feltro di ogni colore della stessa qualità che avevo preso nell'altro video che c'era la gomma crepla adesso ho preso il feltro che però questo non è adesivo no no, questo è normale e ci sono questi colori rosso, arancio, blu verde, giallo marrone, viola, rosa bianco e questo che cos'è un po' è lì, c'è sempre cartone ma no è nero però è molto duro non lo so che cavolo mi hanno messo dentro vabbè, fa niente, comunque vabbè questo è un euro e 99 se non sbaglio sono dieci, dieci pezzi già pretagliati in misura a 4 sono comodissimi e poi sempre da Auchan questa volta non li avevo trovati in quello di Bergamo sono andata in quello di Curno ho trovato sempre questi un euro e 99 vedete che sono scusate sempre quelle cosine che hanno messo cartopassi marcate Auchan le trovate proprio c'è proprio lo stendino lo stand con tutte queste cosine qua queste invece sono questi fantastici cartoncini e la bellezza è che non lasciano glitter sono glitterati ma non lasciano e c'è il doro il rosso che bello il lilla il marrone il verde e questi sono dieci pure questi se non sbaglio il nero per fare le card per farli tagliare fare le forme attaccarle bellissimi argento un altro viola scuro il blu e questa specie di bronzo color bronzo dai bellissimi anche questi qua un euro e 99 sono bellissimi mi piacciono per fare le creazioni per fare i biglietti per fare tutto quello che volete e poi l'ultima volta vi avevo fatto vedere che avevo comprato questi schizze strappa che li sto usando per fare tutti i miei piccoli disegnini hanno la misura giusta hanno il foglio giusto scivola bene il colore col blender il pastello e li uso anche per fare i disegnini che poi vado ad attaccare sull'agenda sono questi qua e ho ripresi ancora tre perché costano un euro e 60 c'è una cifra di fogli e sono tre brocchetti vedete ce n'è uno verde uno rosso quello un mezzo che è arancio vi faccio magari vedere si sono uguali a questo vi ho portato un esempio aperto per farvi vedere ma ve li apro comunque vedete sono un euro e 60 e sono tre ottimi li trovo da se vi interessa poi la misura piccolina per fare piccoli fogli per usare poi come sticker e poi appunto c'erano ancora gli sticker e ne ho approfittato sempre della loro linea lì di Aushan questi qua un po' rialzati in 3D con tutti gli animaletti questi autunnali poi questi qua meravigliosi gufetti questi 69 centesimi vi ricordo anche l'ultima volta che c'erano quelli in unicorno che vi ho fatto vedere sempre 69 centesimi e questi con la volpina e poi si c'è ancora il gufetto e poi questi qua che però questi sono solo un foglio solo questo che vedete qua invece ci sono dentro tre fogli adesso vi faccio vedere perché si sono tre fogli si infatti uno due e tre e ci sono tutte queste scritte qua così un po' particolari però va benissimo per i giorni della gente per fare proprio ma insomma gli sticker sono sempre ottimi a questo prezzo super ottimi poi due acquisti cioè ancora questo da Amazon ho voluto provare questi blender diversi io di solito ho sempre acquistato quelli della Prismacole e continuerò a acquistarli perché mi trovo benissimo però questi qua erano offerta sono quattro con la gomma e il temperino e poi hanno la particolarità che sono delle cosine diverse adesso vi faccio vedere un po' la punta non l'ho ancora provato poi vi saprò dire di più quando faccio il disegno con voi insomma vedete sono un'altra marca sono Derwent insomma li proverò con la sua gommina il temperino anche questi 5 euro 6 euro e 70 6 euro 90 ottimo poi finalmente ho trovato non alla Legami in una libreria l'ibraccio di Cuno che è anche libreria e c'è anche le robine della Legami finalmente l'ho trovata ho anche sbagliato la scatola guardate sono brava tanto va in agenda dritta ho trovato la mia penna Legami color di carlo e da una parte scrive l'orecchietta qua col cuoricino scrive rosa adesso vi faccio vedere e questa qua col fiocchetto scrive proprio quell'azzurro qua non so se si vedono bene i colori sono proprio così chiari color pastello stupendo 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 bellissima questa l'ho pagata 4 euro in certi posti costa 3,50 in certi posti 3,95 comunque ho detto adesso che la trovo la prendo perché guarda è un po' che la cerco e che lì sto dietro è Franci ciao Neila Franci che lei lo sa non sa di questa mia pazzia poi ultime 3 o 4 cosine proprio veloci e uno è questo che poi ne ho presi due perché anche andare al lavoro così prende un sacco di freddo è un casino e sono questi qua che li ho presi alla Decathlon 1,99 euro l'uno si possono mettere anche su le orecchie tirarli su metterli come cappellino e sono comodissimi li metti sul collo sono tipo pile ma neanche quel pile che dà fastidio proprio bello morbido allora a me fanno comodo se vi interessa 1,99 euro ci sono da Decathlon e poi a 1,45 euro oppure 1,49 euro non mi ricordo bene comunque 1,50 euro li spendete e basta questi guanti guardate che belli sempre nello stesso tipo stessutino tipo pile però morbido non fastidioso ci sono le varie misure anche questi qua presi da Decathlon e sono super super comodi morbidi sai quello che paghi quando si rompono quando si bucano insomma neanche a spedere chissà che cosa poi vabbè ho preso 3 paio di calzini uno ce l'ho su è tutto nero sempre con con l'orsetto ce li ho messi subito ok e poi nel trio c'erano questi altri questo qua con il violettino bordeaux e rosa e questo con il grigio e l'arancio sempre con l'orsetto che si buca su e poi ultima cosa che è quella più stupenda ve lo faccio vedere l'ho già usato perché in queste sere ci sto dormendo e sto veramente di un caldino di un comodo in queste giornate qua che è anche nevicato a Bergamo fa un freddo glaciale guardate che bel pigiamino immaginatevelo quando faccio le nane ok col guffetto che fa la nanna sulla maglia e questo l'ho preso ancora da Auchan non ve l'ho detto prima perché l'ho detto lo lascio per ultimo perché è il pezzo più bello di questo haul e poi guardate i pantaloni cioè non sono una meraviglia con le zampette cioè mera mera meravigliosi poi sono morbidoso non è pile è proprio quel tessuto pelosetto morbido che non dà fastidio anzi tiene bello caldino questo se l'ho pagato 14,99 praticamente 15 euro però non potevo lasciarlo lì c'erano anche da 10 10,99 erano belli anche quelli ma quando ho visto il guffetto rosa le zampette sul pantalone è il mio è il mio inverno niente chiudo qua anche questo haul ci vediamo nel prossimo video grazie per avermi seguito attivate la campanellina per non perdere nessun altro dei video della vostra amica dai eh e poi se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale vi mando un sacco di baci vi faccio tanti tanti auguri al prossimo della mica musica musica